silvio berlusconi ha lanciato il progetto del partito unico di centrodestra le reazioni degli alleati matteo salvini e giorgia meloni sono state piuttosto fredde con il primo che ha invitato tutti ad andare piano e la seconda che invece ha manifestato tutto il suo scetticismo come aveva già fatto in occasione dell'idea della federazione del centrodestra di governo in questo caso si può parlare di un vero e proprio colpo di coda da parte di berlusconi che tra l'altro ha appena registrato tre nuovi ingressi a strasburgo ho dato il benvenuto a isabella ad inolfi andrea caroppo e lucia vuolo ha dichiarato il fondatore di forza italia che hanno scelto di dare un contributo alla nostra delegazione italiana sono sicuro che in forza italia e nel gruppo pp e al parlamento europeo si sentiranno a casa loro ad inolfi proviene dal movimento 5 stelle mentre gli altri due dalla lega proprio durante la riunione con gli eurodeputati azzurri il cav ha rispolverato il progetto del partito unico in passato aveva già registrato due marchi centrodestra e centrodestra unito soprattutto quest'ultimo secondo il giornale sarebbe interessante perché l'acronimo è cdu riconducibile all'unione cristiano democratica di angela merkel berlusconi sarebbe molto ottimista riguardo a questo progetto giorgia meloni ora fa fatica ad accettare il partito unico ma in futuro lo accetterà salvini ha però frenato in diretta stasera italia su rete 4 un conto è federare altro è mischiare partiti dalla sera alla mattina gli italiani non ci chiedono giochini ma fatti